Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, dopo indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 23 soggetti, indebitamente per cettori di reddito di cittadinanza. In particolare i finanzieri della Compagnia di Casa Nuovo di Napoli, dopo mirate attività investigative seguite confrontando le informazioni pervenute dalla casa circondariale di Secondigliano con le risultanze delle banche dati IMSS, hanno riscontrato che 23 soggetti, tra detenuti e componenti del proprio nucleo familiare in stato detentivo, beneficiavano del contributo omettendo di dichiarare tale condizione cautelare. I finanzieri hanno così ricostruito l'indebita percezione del beneficio per oltre 207 mila euro. Le somme sono state sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca. L'azione della Guardia di Finanza nell'ambito dell'attribuzione conferite al Corpo in materia di tutela della spesa pubblica nazionale è finalizzata a garantire il corretto impiego delle risorse, l'accesso ad agevolazioni e sussidi a favore di coloro che ne siano gli effettivi, aventi diritto.